Conferenza stampa a Pescara del Comune di Attiva per presentare le varie iniziative legate alla raccolta differenziata e alle pulizie di primavera. L'assessore Paola Marchegiani e l'amministratore unico di Attiva Massimo Papa. Attiva ha preso circa sei operatori che sono dedicati soprattutto alle pulizie di Pasqua, quindi a pulire tutti i cassonetti. Ci saranno poi delle particolari cure che servono proprio al momento di questa primavera che riapre veramente un po' l'animo di tutti i cittadini che camminando potranno vedere una città più profumata e più pulita. Ma il grande senso invece di questa conferenza stampa è legata al fatto che la campagna di sensibilizzazione a Pescara, ma che ci fa, continua. I totem sono stati messi nei comuni. La campagna di formazione dei professori, dei docenti è terminata. I ragazzi delle scuole hanno potuto godere delle lezioni di un grande esperto di comunicazione ambientale, che è Sandro di Scerni. Sono stati fatti dei mercatini e dei gazebo per il riuso. Pescara passa dal 29% quasi al 47%, quindi è un incremento di differenziata notevole. La raccolta differenziata diventa anche un gioco. C'è anche un'attività che è di informazione e formazione nelle scuole. Utilizziamo anche degli strumenti, che sono per esempio questo gioco che oggi presentiamo, per il riuso e il riutilizzo dei materiali di scarto, o comunque una parte dei rifiuti. C'è sicuramente anche una sperimentazione che noi avvieremo con l'Istituto Leonardo da Vinci, con una stampante in 3D, per far realizzare agli studenti, oltre che l'utilizzo del mezzo, quindi la stampante in 3D, anche il fatto che la plastica opportunamente trattata può diventare un oggetto con una sua vita.